Ambi di giovani provenienti dall'Eso Europa, dove lavoravano come carrozzieri professionisti. Due cittadini moldavi, entrambi ventenni incensurati, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nella zona della Crocetta, nella notte fra venerdì e sabato scorso, sorpresi all'atto di asportare da una BMW un intero dispositivo multimediale. Gli investigatori del commissariato San Secondo indagavano da settimane a seguito di numerose denunce presentate dai proprietari di BMW riguardanti tutte la medesima cosa, il furto dell'intera apparecchiatura elettronica. L'attività di indagine ha portato da prima l'individuazione dell'auto utilizzata per commettere i reati. Sul luogo del delitto era sempre stata notata una megan cabrio con capote nera, vecchio modello. Successivamente, attraverso ripetuti pedinamenti e appostamenti, si è riuscita a risalire anche all'identità dei ladri. L'attività di indagine ha portato da prima l'individuazione dell'auto utilizzata per commettere i reati.